Come sia nata la vita sulla Terra è oggetto di grandi dibattiti, probabilmente non si riuscirà mai ad arrivare a capo di questo enigma perché l'unico modo per accertarsi di come la vita sia nata sulla Terra è tornare indietro di 4,7 miliardi di anni fa e guardare quello che succedeva cosa che per il momento non c'è possibile, quindi lo dobbiamo fare in maniera indiretta. E' uno studio molto interessante ma non molto pubblicizzato, è proprio la ricerca pubblicata sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti ed è stata coordinata da una professoressa che è un'autorità internazionale infatti di meteoriti, l'italiana Sandra Pizzarello che da 40 anni, anzi da oltre 40 anni, lavora negli USA presso l'Università dell'Arizona. Analizzando la composizione di una meteorite che appartiene alla famiglia delle condriti carbonacee sarebbero i più antichi fossili del sistema solare precipitati sulla Terra è stato possibile vedere che in questo meteorite chiamato Grave Nunatax 95229, rinvenuto in Antartide una forte concentrazione di ammoniaca. In un piccolo pezzo di appena 4 grammi si è rivelato la presenza di questo composto. L'ammoniaca contiene azoto, elemento che ritroviamo nelle proteine e nel DNA e per questo è considerato uno degli ingredienti necessari allo sviluppo della vita così come noi la conosciamo. Secondo le diverse teorie che si rifanno a questo presupposto durante la fase primordiale di formazione della Terra non c'erano delle condizioni sul nostro protopianeta di tutte le molecole necessarie per formare la vita, per dare origine alla vita. Quindi le molecole sarebbero arrivate sul nostro pianeta dal cielo, dallo spazio. Tra queste molecole c'è anche l'ammoniaca che potrebbe essersi formata su alcuni asteroidi della fascia principale dove le condizioni ambientali erano favorevoli più che sul nostro pianeta per formare l'ammoniaca. Quindi poi questi asteroidi sarebbero caduti sulla Terra attraverso dei pezzi più piccoli frammentati e avrebbero portato sul nostro pianeta questa molecola essenziale. E' quindi molto probabile che sia arrivata dallo spazio l'ammoniaca grazie alla quale è nata la vita sulla Terra. E' stato quella che fra i 4,4 e i 2,7 miliardi di anni fa ha dato origine alla formazione delle prime molecole organiche. Uno studio non recentissimo ma che comunque vale la pena sempre tenere d'occhio per farsi sempre un quadro generale su tutti i fenomeni che riguardano il nostro pianeta e su come possa essersi evoluta la vita. Grazie, alla prossima.